Maximum, via Raffaele Luciano, Cava dei Tirreni, Salerno, telefono 089 46 11 64. Una panchina rossa dedicata a Nunzia Maiorano e a tutte le donne vittime di violenza. L'evento, fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni in occasione della festa della donna, vuole essere un'occasione per riflettere e tenere a mente un tema che in Italia ha caratteri di noemergenza, con cifre che purtroppo ogni giorno devono essere aggiornate. Una triste realtà con la quale ha dovuto fare i conti anche la città metelliana, con la tragedia dello scorso 22 gennaio, quando la giovane mamma è stata barbaramente uccisa dalla furia omicida del marito. La panchina, ridipinta di rosso, colore che ormai si riferisce ad ogni campagna di sensibilizzazione contro i femminicidi e in favore delle pare opportunità, sarà inaugurata domani mattina alle ore 11 in Piazza Mabile. Oltre al sindaco Vincenzo Servalli, alla presidente del Consiglio Comunale Lorena Iuliano, all'assessore Nunzio Senatore dalla consigliera con delega alle pare opportunità Paola Landi, alla cerimonia saranno presenti anche le delegazioni di tutte le scuole della città e le associazioni del territorio. Accanto alla panchina sarà posta una targa in ceramica che riporta il nome di Nunzia Majorano. A seguire poi alle 18 a Palazzo di Città si terrà un incontro dal titolo Oltre l'8 marzo, con le associazioni del territorio che avranno modo di interloquire con l'amministrazione comunale. E sempre in occasione della festa della donna, la SICME Energy Gas, società leader nella vendita di gas e power, che a breve inaugurerà una sede operativa anche nella città metelliana, ha voluto installare in Piazza Vittorio Emanuele III una scultura luminosa che rende omaggio alle donne. L'ideale è per un romantico selfie serale, quando la scultura, realizzata con tubi a led, si illumina e mostra un uomo in atteggiamento romantico che porge in ginocchiato un mazzo di mimosi ad una donna.